Il più classico dei testa-coda dovrebbe consegnare al Vieste un'altra domenica da capolista nel campionato d'eccellenza. Questo almeno racconta la classifica alla vigilia dell'ottava giornata, che vedrà i due estremi della Puglia e del torneo, Galatina e Vieste appunto, incontrarsi nella sfida dal pronostico sulla carta scontato. Insomma, per le dirette inseguitrici, tutte impegnate in scontri diretti, non dovrebbe essere questa la domenica dei possibili sorpassi. Più concretamente bisognerà provare a tenere il passo e non sarà facile per la Vigor Trani ad un nuovo esame di maturità dopo quello superato contro la Virtus Francavilla. Il Mola alza ulteriormente l'asticella delle difficoltà per i tranesi, che non potranno avere il sostegno del proprio pubblico, se si considera che la formazione barese ha necessità di riscattare la sconfitta di Vieste e in casa ha perso una sola volta all'esordio contro la Libertas Molfetta. Dalla sua, la Vigor proverà a mettere sul campo l'imbattibilità di queste prime sette giornate è appunto il buon voto rimediato dagli esami contro Novoli, proprio lontano dal Comunale, e Virtus Francavilla. Il cui impegno casalingo contro il Bitonto nasconde parecchie insidie, le stesse che troverà sul proprio cammino la Libertas Molfetta contro il Nardò. Il match più importante di questo ottavo turno con i Biancorossi in ripresa, ma alla ricerca di una vittoria casalinga non ancora arrivata, e i Neretini invece che cercano conferme per consolidare le ambizioni di alta classifica. Quelle che non sono venute meno allo Sporting Altamura, nonostante lo stop di domenica scorsa con Molfetta. I Murgiani però dovranno fare i conti con la Sud-Est, che non può permettersi altri passi falsi in chiave salvezza. Questione che riguarda più da vicino le altre sfide della domenica. Novoli-Casarano garantisce punti tranquillità e la Staranto-Castellaneta anche il primato tra le squadre ioniche, mentre Ostuni-Ascoli-Satriano ha i connotati di uno spareggio, seppure solo all'ottava giornata.